Amici e amiche di RBA, siamo in diretta dall'Alla di Ferro di Saluzzo per la festa del Libro Medievale e Antico, edizione 2023, terza edizione di questo appuntamento organizzato dalla città di Saluzzo con il Salone Internazionale del Libro di Torino, con altri partner che rendono possibile questo appuntamento che sta diventando un vero e proprio rito qui a Saluzzo, ricordiamo la capitale del Marchesato di Saluzzo, e ci collega a un passato ancora presente, in realtà lo abbiamo scoperto con le persone ospiti ai nostri microfoni in questa diretta speciale di Caffa Bleu, è il nostro morning show di RBA che vi racconta l'apertura di questa festa che proseguirà fino a domenica 22, noi ricordo ancora saremo presenti come RBA anche domani con una diretta speciale domani pomeriggio a partire dalle 15 da il quartiere. Per concludere il nostro viaggio, il viaggio è uno, è il tema, in realtà principale della festa del Libro Medievale di quest'anno, per andare a chiudere il nostro viaggio, dicevo, abbiamo con noi l'assessore alla promozione turistica della città di Saluzzo, Andrea Monberto. Andrea, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti voi. Allora, i ragazzi e le ragazze hanno appena finito di dipingere i loro murales che sono nelle nostre spalle in questo momento, le attività del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, anche quest'anno hanno dato il loro contributo, hanno dato il loro contributo anche gli sbandiratori con i loro tamburi e la festa continua, anzi è appena iniziata e continua questo appuntamento, ormai è diventato un punto fisso diciamo nell'agenda delle offerte turistiche e culturali della città di Saluzzo. Esatto, è tornato il silenzio. È vero, abbiamo le orecchie che... I bambini sono rientrati in classe, però... Quella esperienza, dai, bella. No, fantastico, fantastico perché è uno di quei momenti in cui la città viene davvero coinvolta in questo evento, quindi non è soltanto un evento, come dire, che prevede le elezioni, in cui viene un pubblico magari interessato o tra virgolette specialistico da fuori, ma... C'è anche quello. C'è anche quello, però è una festa innanzitutto, è una festa che coinvolge la comunità che la ospita, che la produce in qualche modo. Qual è il ritorno sulla comunità? Hai parlato di comunità e di cittadini e cittadine evidentemente, abbiamo parlato di bambini e bambine, è una festa che vuole rivolgersi, immagino, anche a persone di tutta l'età, quindi anche agli adulti, agli ragazzi e ragazze. Com'è attirare questa parte della cittadinanza in una festa che, lì per lì, non dico che spaventi, ma ci dice, ma il Medioevo, perché fare un evento sul Medioevo? Ma la scommessa è che intercettare un sentimento che a Saluzzo esiste, che è un senso di appartenenza e anche un po' di orgoglio. Forse ogni tanto questa cosa ci rende un po' antipatici ai nostri vicini di casa, esatto. E Saluzzese ha la puzza sotto il naso, Saluzzese parla come se fosse il Marchese. In realtà non è così, nel senso che però c'è davvero un senso di orgoglio legato al passato della città di Saluzzo. Perché è presente, è casa Camassa. No, questo senz'altro, certo. E quindi la scommessa è un po' intercettare questo senso di orgoglio dei Saluzzesi che hanno per la loro città, facendolo diventare una voglia di conoscere, di approfondire quello che è stato il periodo maggiormente importante per la nostra storia. Quindi non solo, va bene, le bellezze che sono rimaste, ma capire cosa è stato il Medioevo, cosa è stato il Rinascimento a Saluzzo e nel quadro nazionale e internazionale. Il possibile futuro, l'eredità di questo mondo medievale che è rappresentato e vuole emergere, insomma, grazie anche a questo appuntamento, a questa festa, non solo appuntamenti accademici, ma anche divulgativi, Barbara Sofia, Matteo Saudino che sarà ospite, poi Roberto Mercandini stasera, la musica, i banchetti medievali, quindi anche il spazio al cibo. Insomma, quella parola festa con la quale siamo partiti, Andrea, è fondamentale, questo vuole essere. La cittadinanza, secondo te, come assessore, come amministratore, parte dell'amministrazione, percepisce un evento caduto, tra virgolette, dall'alto, è una mia curiosità, caduto dall'alto, quindi vissuto a Saluzzo perché c'è, o... Ok, tu hai parlato di eredità, di sensazione, insomma, dei saluzzesi e delle saluzzesi di essere parte di un passato medievale, ma è davvero così? Come giudichi? I bambini hanno festeggiato? Gli adulti? Gli ragazzi? Ma io credo e spero che non venga percepito come una cosa che arriva dall'alto. Penso che la grande partecipazione che abbiamo di associazioni, di scuole, di classi, di ragazzi che hanno proposto dei contenuti per la festa... Ah, bene. Anche loro hanno proposto? Sì, assolutamente. Avremo degli spettacoli fatti appunto dalle scuole superiori, quindi contenuti che vengono creati da realtà saluzzesi o appunto la cena medievale che c'è questa sera e l'associazione Urca, per esempio, che ce l'ha proposta. Non è una cosa che è stato richiesto a loro di farla perché rientrasse nel programma, ma è il contrario. È un programma che nasce dal basso, certo, la parte del salone del libro, la parte degli incontri con gli autori, quella è organizzata dallo staff, diciamo, culturale e scientifico della manifestazione, ma poi esistono tutta una serie di altre, di altri contenuti che sono altrettanto importanti, non sono una corollari, una cosa a cornice, ma sono altrettanto importanti che sono nati dalla volontà di singoli, di gruppi, di associazioni, di scuole saluzzesi. Questo penso che sia un bel segnale, dopodiché il nostro sforzo è proprio teso a far sì che continui a essere questo, non un prodotto che può essere, svolgersi qui a Saluzzo come da un'altra parte, ma che qui abbia le sue peculiarità e che qui sia vissuto dai cittadini. Il quartiere ospita anche tutta una serie di case editrici, perché è anche questa, esposizione di proposte editoriali, ci sarà Fabio Genovesi che presenterà il suo libro, tra l'altro tra i tanti appuntamenti, presenti sia sul sito del Salone del Libro, ma anche sul sito Visite Saluzzo. Questo portale di promozione turistica, punto di riferimento, com'è cambiata la percezione? È una guida che possiamo avere comodamente sul nostro smartphone, non solo sul computer, come funziona e com'è il sentimento, com'è la percezione di questo lavoro che è già attivo da qualche anno? Eh sì, sono circa un paio d'anni che lavoriamo attorno a questo, era uno strumento che mancava e ci si rimproverava un po' che non ci fosse un luogo nel quale intanto raccontare la città, ma poi dare un po' conto di tutte le iniziative che ci sono, perché ogni iniziativa aveva la sua guida, il suo sito, la sua pagina di riferimento, e questo è molto complicato. Per chi vuole venire a Saluzzo e capire che cosa c'è e decidere come programmare un weekend, una serata, invece su Visite Saluzzo c'è una parte di calendario che ha tutti gli eventi, che contiene tutti gli eventi che accadono in città. Questo vuol dire un lavoro di redazione dietro enorme, che fa il personale del comune, a cui veramente devo fare un grande ringraziamento, però vuol dire che quando comunichiamo qualcosa c'è l'utente, sa che va in un posto, visit saluzzo.it, trova facilmente il calendario e lì c'è veramente tutto. Quindi diversità di appuntamenti in un unico luogo dove ritrovare che cosa accade e cosa potrei vivere a Saluzzo, questo è l'obiettivo. Esatto. Mantenendo le peculiarità di ogni iniziativa, e questo penso sia stato anche un passo avanti, perché in luoghi, ma non solo in realtà in piccoli paesi, un paese come Saluzzo, 18.000 abitanti, se ricordo bene, Saluzzese, eccetera, sappiamo quanto ci tengono coloro che organizzano questi appuntamenti? Non si è snaturati, ma anzi è parte di un tutto, secondo te? Beh, è una cosa faticosa questa da fare, perché non è un sito, non è un luogo statico, come dire, l'ente o l'associazione o nel nostro caso il comune compra un sito fatto bene, statico, perfetto, nel momento in cui hai finito di crearlo è fatto, non lo guardi più. E allo stesso tempo anche i singoli promotori, produttori di eventi tendono a, a volte, a pensare, hanno la loro pagina, il loro contenuto, il loro canale di comunicazione e guardano quelli. Quindi è una risorsa, assolutamente. Lo sforzo questo è di tenere insieme, quindi magari è anche uno strumento di lavoro, di programmazione, per chi programma gli eventi, perché va a vedere se, ah ma io oggi ho deciso di fare questa cosa qua, confligge con altro, quella sera lì mi mangio il pubblico con qualcun altro, confondo le idee alle persone, è anche uno strumento di lavoro importante, per un lavoro che è faticosissimo, però riteniamo sia fondamentale. Quindi coordinare il tutto, potrebbe essere un esempio anche per chi ci ascolta da altre realtà del Piemonte e della Liguria, dove potete ascoltare e guardare RBE. Andrea, in chiusura, gli appuntamenti, la festa del libro medievale, è ormai un appuntamento fisso, terza edizione, nel calendario, nell'agenda di offerte di Saluzzo, poi ci sarà Overnà dalla settimana prossima, ma ecco, l'anima occitana, quella medievale, e poi anche l'antiquariato, poi si arriverà a Natale, insomma tanti appuntamenti che mostrano Saluzzo da vari punti di vista. Ma sì, questi sono tutti contenuti, ci stiamo sforzando accanto a dei contenuti che servono, a dei momenti di festa e degli eventi che servono a fare comunità, e che ci sono, e ci sono da tempo, e che vanno rafforzati, e pensiamo che per una città come la nostra, ma per un territorio come il nostro, servono eventi che si possono vedere un po' più da lontano. E quindi le partnership con soggetti come il Salone del Libro, ma con l'associazione Lui del Film per Luvernada, con i grandi partner che abbiamo sul Salone dell'Audor, sulla Centomiglia del Monviso, sulle mostre fotografiche, in questo momento in Castiglia è visibile una mostra fantastica fatta con il Centro di Fotografia Camera di Torino, quindi questi siano contenuti che servono ad aumentare la visibilità della città e del territorio da chi la guarda un po' più da lontano. Qualche riscontro comincia a esserci, perché abbiamo del pubblico magari specializzato, magari interessato a quel singolo contenuto, ma che lo vede anche da fuori regione e che arriva apposta, e Saluzzo può diventare, può essere la meta per un weekend, un weekend lungo, in cui magari ci metti dentro il contenuto che ti interessa, ma poi scopri che ci sono anche altre cose e magari torni. Ecco, questo è importante sicuramente, aumentare il sentiment, la percezione di un territorio e di quello che offre a un pubblico diverso, ecco, di tutta l'età. Alle nostre spalle i murales, i cartelloni meravigliosi colorati dai ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato al laboratorio del Dipartimento di Educazione del Castello di Rivoli per la festa del Libro Medievale e Antico. Questi cartelloni, questi murales andranno a richiedere, rimarranno, insomma, il più possibile nella storia, saranno un ricordo di questa festa, rimarranno a Saluzzo, non sono fine a se stessi? Sì, orneranno, adesso andremo a allestirli negli spazi che da domani mattina ospiteranno gli stand della festa vera e propria, quindi dove ci saranno gli editori, le librerie antiquarie, al quartiere. Le sale saranno rese belle e colorate da questi lavori e poi assolutamente rimarranno a Saluzzo e molti torneranno anche nelle scuole che li hanno realizzati. Quindi un ricordo di questa festa. In chiusura, ricordiamo solo il portale e il punto di riferimento anche sui social per avere tutte le informazioni sulle iniziative di Saluzzo come promozione turistica di un territorio sempre molto vivo. Visitsaluzzo.it è il sito, Visitsaluzzo è anche la pagina Facebook e la pagina Instagram. Andateci a dare un'occhiata, ci sono ancora dei posti liberi per gli eventi legati alla festa e per esempio per il grande buffet medievale di questa sera al Tastè, quindi all'Antico Palazzo Comunale, ci sono ancora dei posti, quindi chi vuole può ancora prenotarsi. La possibilità di poter vivere questi appuntamenti nel fine settimana, da oggi 20 ottobre fino a domenica 22 per la festa del libro medievale e antico che abbiamo presentato dal punto di vista della promozione turistica come questo evento, come molti altri, possono essere un volano per far conoscere o riconoscere un territorio. Con noi l'assessore della promozione turistica Andrea Momerto che ringrazio. Grazie Andrea per sentire con noi, buona festa. Ciao, alla prossima.